che cos'è il mutuo appoggio è un libro leggendario moltissimi lo conoscono già ma per quelli che non lo conoscono possiamo dire che è un frutto di un tentativo titanico fatto da Kropotkin di elencare di studiare di inventariare tutte le forme possibili avvenute di aiuto reciproco fra gli esseri viventi e fra gli esseri viventi significa non solo fra gli esseri umani ma anche fra gli animali addirittura partendo dai microorganismi quindi è una antologia una rassegna metodica puntigliosa di tutti i modi in cui gli esseri viventi e in larga parte gli esseri umani hanno e possono cooperare possono aiutarsi a vicenda il mutuo appoggio era stato pubblicato nel 1902 a londra e fino ad ora quindi quasi 120 anni dopo in italiano si è potuta leggere solo la bellissima traduzione fatta dal grande Camillo Berneri che però era stata fatta dalla traduzione in francese pubblicata nel 1906 e quindi dal 1925 a oggi ha sempre circolato è sempre stata ristampata questa traduzione di una traduzione quindi questa è la prima possibilità di leggere il mutuo appoggio in traduzione diretta dall'inglese il mutuo appoggio era stato dicevo pubblicato nel 1902 ma è stato scritto da crow potkin dal 1890 fra il 1890 e 1896 è uscito in una prima stesura a puntate che poi hanno rappresentato le basi dei degli otto capitoli che lo compongono su una importante rivista inglese che si chiamava 19th century e che poi appunto è stato rielaborato ampliato e pubblicato nel 1902 in questo è un libro paradossale parossistico che ricorda un po quei tentativi di esaurire un campo infinito attraverso una descrizione attraverso un catalogo attraverso un inventario che sono stati che piacevano tanto a george per ecco o a borges agli animali è dedicata sono dedicati primi due capitoli e poi ci sono i capitoli successivi in cui con un linguaggio decisamente ottocentesco si studiano i selvaggi il mutuo appoggio fra i selvaggi il mutuo appoggio fra i barbari due capitoli sul mutuo appoggio nella città medievale che è un periodo che sta particolarmente a cuore a kropotkin e poi due capitoli che sono il mutuo appoggio tra di noi ai giorni nostri quindi è un libro che parte da un orizzonte biologico scientifico ma poi diventa subito e rimane principalmente un libro sull'etica umana e che solleva e mette di fronte ancora oggi alla possibilità sempre esistente di scegliere fra un principio di competizione e un principio di aiuto reciproco è un libro che è oggi estremamente attuale forse io penso ancora di più di quando è stato pubblicato perché a quel tempo diciamo le istanze di aiuto reciproco di mutualismo di fratellanza erano certamente al centro dei valori e dell'azione di grandi settori della società che andavano dal movimento operaio certo oltre al movimento all'ambito anarchico in cui si muoveva kropotkin alla sinistra a estesa fino a settori repubblicani e liberali a grandi settori del di ambito degli ambiti religiosi più svariati ecco diciamo ciò che rimane di quelli di quei filoni oggi è stato in buona parte invece corroso da parole d'ordine come competizione merito profitto e successo quindi oggi questo libro è secondo me ancora più attuale e necessario di quando è stato pubblicato la prima volta e ancora di più in questi giorni difficili in cui dobbiamo tutti inventarci nuove forme di aiuto reciproco attivo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti